Sanità, primo diritto garantito dalla Costituzione. È il tema del convegno tenutosi giovedì sera nella suggestiva connice del circolo nautico, promosso ed organizzato dal Lions Club di Torre del Greco. È spetta a confronto su un tema di grande attualità ed interesse per la collettività. Ad introdurre i lavori Giovanna Romano, presidente del Lions Club Torre del Greco, che ha illustrato le finalità dell'iniziativa. Lo scopo di noi Lions è quello di servire il mondo nel bisogno. Purtroppo la sanità in Campania è la peggiore nel mezzogiorno, per cui le persone, i pazienti sono costretti ad andare via, specialmente dal sud. E per cui mi faccio una domanda. Le persone che non hanno la possibilità, cosa dovranno fare? Ecco perché stasera ho voluto affrontare questo argomento, perché tutti noi abbiamo diritto alla salute. Si sta verificando in questo periodo una fuga di medici dagli ospedali pubblici verso la sanità privata. Il pronto soccorso è la prima cosa fondamentale, perché il nostro cittadino che viene al pronto soccorso si chiede esclusivamente una qualità. Non bisogna aspettare tre, quattro ore per avere un'analisi, per avere un esame radiologico, per avere la consulenza di uno specialista adatto. L'unica possibilità che hanno è presentarsi al pronto soccorso, però aspettano ore e ore e ore per avere una prestazione degna di questo nome. Sono intervenuti anche gli attivisti dell'Associazione Promaresca, che da anni si battono per la causa dell'ospedale di Via Montedoro. Dobbiamo fare in modo che sempre meno persone si muvano dal proprio territorio per recarsi in altre regioni, in altri territori italiani, per potersi curare. Ogni soggetto, ogni persona ha diritto di essere curata vicino casa, perché siamo cittadini italiani sia a Napoli sia a Milano. Noi ovviamente ci occupiamo in particolare del nostro nosocomio, che è l'ospedale Maresca, essendo un'associazione che fa riferimento principalmente ai bacini, alle cittadine di Torre del Greco e di Ercolano. E noi vogliamo che questo ospedale non solo esista, ma sia funzionante, offra dei servizi dignitosi alla popolazione di cui fa riferimento. Al centro del dibattito anche la problematica relativa all'assenza di reparti di pediatria sul territorio. I bambini di questa città si trovano in difficoltà quando hanno la necessità di recarsi in ospedale per problematiche urgenti. La pediatria è una branca di prossimità, quindi c'è necessità di raggiungere al più presto un ospedale per essere assistiti. Non dimentichiamo che soltanto qualche mese fa, purtroppo, una triste vicenda ha colpito una neonata che non è riuscita a raggiungere l'ospedale per le condizioni critiche e per cui è deceduta, proprio perché non è riuscita ad avere un'assistenza urgente. Per cui io ho rimarcato la necessità che questa zona riacquisti la sua pediatria e riacquisti la possibilità di poter assistere i bambini in modo adeguato. Sono qui accanto all'Associazione Promaresca che sta facendo un lavoro straordinario per tutti quanti noi. Un territorio con centinaia di migliaia di abitanti ha bisogno di un ospedale dignitoso che garantisca il diritto alla salute dei nostri figli. Sono accanto tra l'altro al sindaco di Torre del Greco Luigi Mennilla che sta facendo un lavoro importante. I sindaci tutti quanti devono essere uniti per questa battaglia che è una battaglia sul futuro dei nostri figli. Conclusioni affidate al consigliere regionale della campagna Tommaso Pellegrino che ha sottolineato l'impegno delle istituzioni e gli esempi di buona sanità troppo spesso ignorati. Ringrazio gli amici del Lions qui di Torre del Greco perché hanno promosso un'iniziativa particolarmente sentita su un tema che riguarda appunto i temi della sanità che oggi in regione sono centrali nella nostra azione. Tante volte noi parliamo della sanità in termini negativi, tante volte si parla delle cose che non funzionano. Mettiamo in evidenza anche le tante cose che funzionano, il lavoro che stiamo facendo. Stiamo lavorando per migliorare l'organizzazione, stiamo lavorando per cercare di creare le condizioni anche in termini di accoglienza dei nostri pazienti e per creare quella rete virtuosa che certamente incide favorevolmente ovviamente anche sull'immagine della nostra sanità. Ecco perché il lavoro che stiamo facendo è per dare dei segnali positivi che possono mettere in condizioni i nostri pazienti di evitare quei viaggi della speranza che comportano esclusivamente un carico in termini negativi sia economici per quanto riguarda le famiglie, oltre che un disagio anche concreto, pratico in termini di mobilità passiva, quindi non è giustificato per la stragrande maggioranza delle patologie andare a curarsi fuori dalla nostra regione.